La sua musica dice F*** you ma in un modo davvero bello è come F*** you ti amo ora mi spiegherai una musica bella quindi c'è questa sensazione che fanno quello che vogliono è la mia prima volta che salgo su una Lamborghini e soprattutto su una Lamborghini GT3 quella macchina lì è preparata da corsa sono emozionatissimo ovviamente da passeggero però sono davvero gasato a provarla Come c'è anche il buon Keredan e anche lui proverà questa macchina ovviamente come dicevo prima non la guideremo anche perché mi sa che è un po' pericoloso se non l'hai mai guidata e soprattutto se non sei un pilota professionista ringrazio che ci sia la Huracan e non la GT3 perché hai senso eccola beh è la versione racing non è quella da strada è come Toto è Toto Racing ti ha paura questa cosa mi pensavo fosse quella piccolina carina tutta blu carina che compri anche se no è quella lì con l'alettone che frena a 50 metri dalla curva madonna no 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 dunque ragazzi il prossimo sono io adesso ho messo il casco e la mascherina igienica ovviamente sarà tosta sarà tosta che la danna mi ha detto che è veramente dura tenere soprattutto la videocamera quindi spero che riusciate a vedere qualcosa di carino bene ragazzi tocca a me adesso mi stanno praticamente imbracando completamente c'è una cintura 5 punti attacco a 5 punti? 6 6 punti sono strettissimo chiusi chiudo la porta e partiamo che stupendo non sono cosa sentibile che stupendo non sono cosa sentibile che stupendo non sono cosa sentibile non sono cosa sentibile non sono cosa sentibile non sono cosa sentibile che stupendo non sono cosa sentibile non sono cosa sentibile la macchina è in ruota con tutti i funzionari è un grande è stupendo se avete l'occasione provatelo perché è indescrivibile c'è il cuore a mille si si sono riuscito a fare a un certo punto non ho più visto il microfono però ci sa ah chissà dove è finito stupendo è stata un'esperienza fantastica davvero una figata pazzesca la macchina è molto scorbutica nervosa il pilota ha comportato benissimo ha spinto un sacco cioè in curva era veramente difficile non taglierò niente perché è veramente indescrivibile come cosa dovete guardarlo tutto grazie ad Alessio il link in descrizione iscrivetevi al canale di TotoRacing92 e mettete tanto mi piace grazie ad Alessio grazie ad Alessio grazie ad Alessio